Il ridotto del teatro di Sondrio riconsegnato alla città. Ieri il taglio del nastro del seminterrato del sociale intitolato a Celestino Pedretti, indimenticato proprietario per 50 anni di quello che per mezzo secolo è stato il fulcro della cultura cittadina. In una struttura demiciclo, nell'abbraccio di mura ottocentesche, un angolo carico di storia torna a disposizione della città per concerti e conferenze. Il taglio del nastro affidato alla figlia di Celestino Pedretti, Pupa, che ha ricordato emozionata il padre e l'impegno portato avanti con la sorella Carla, i figli e i nipoti per consentire il ritorno a nuova vita del ridotto. Celestino Pedretti è stato, pur nella sua breve vita, una figura preminente nella vita sondriese. Dovunque ci fosse una manifestazione, lui c'era. Se c'era qualche persona che aveva bisogno, ricorreva a lui. Cosa ha provato questa sera quando ha tagliato il nastro? Ho pensato alla mia famiglia, ai miei figli che mi hanno aiutato tanto, a mia sorella che purtroppo non c'è più, alle mie nipoti che hanno contribuito a far sì che questo scriio, questo piccolo gioiello potesse venire alla luce. Sulle antiche mura cartelloni teatrali d'un tempo, fotografie, l'atto di vendita del teatro è la storia di Celestino Pedretti, il cui nome viene così consegnato alla memoria della città. È bellissimo, è una bella emozione, spero che la provino anche i sondriesi progressivamente poi nel tempo quando organizzeremo qua degli eventi. Stare qui è meraviglioso, queste mura raccontano veramente la nostra storia, le nostre radici. È vero, queste mura parlano e ci raccontano della storia di questo teatro, è un'atmosfera veramente affascinante. Quanta storia c'è in questo ridotto? Beh, sicuramente tanta, nel senso che era nato come magazzino, diciamo deposito del teatro perché appunto era un interrato, poi nel 2010 quando abbiamo avviato i lavori principali del teatro abbiamo scoperto queste murature e con l'amministrazione è stato deciso di farne una sala pubblica. Gli eventi possono essere di vario tipo, può essere utilizzata come una sala conferenze come, non so, per la presentazione anche di libri oppure per degli incontri aziendali. Può essere utilizzata come sala da concerto ovviamente per un numero limitato di posti perché per ragioni di sicurezza non ci potranno stare più di 92-93 persone. Al termine dell'inaugurazione, tributo musicale emozionante da parte della band Balm, al basso elettrico il nipote di Celestino Pedretti, Andrea Balgera. Il gruppo si è esibito in omaggio alla Shanghai Band Jets dove suonava il nonno. Grazie a tutti.